Abbiamo sicuramente lavorato fortificando quello che di buono avevamo fatto, cercando di eliminare i difetti, ma soprattutto secondo me ci deve essere domani in campo tanta rabbia perché quando perdi sicuramente lo stato d'animo non è dei migliori e quindi è stata una settimana che è partita così, poi ci siamo concentrati su quello che dovevamo fare. Adesso questa delusione, questa settimana passata così, la dobbiamo trasformare, come dicevo prima, in rabbia da mettere in campo domani. Una squadra che sta facendo molto bene, che ha grande entusiasmo, una squadra ben organizzata, che gioca anche un buon calcio e noi effettivamente veniamo da una sconfitta che ha bruciato tantissimo in questa settimana e quindi adesso il calcio ci dà la possibilità di rifarci e quindi dovremo essere una squadra che ha tanta rabbia che ci deve derivare dalla partita persa per cercare in tutti i modi di rifarci. Grazie. Grazie.